l'uscita pastena e la moto mi abbandona sono rimasto a piedi tra 50 minuti devo essere al lavoro non doveva essere questo l'intro quindi partiamo dall'inizio della storia di questa storia siamo a cetara siamo partiti da positano loro io da maiori siamo al di single share the gentleman's ride ma 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 partiamo dall'inizio di questa storia in realtà loro partivano da positano però c'è una tappa intermedia a maiori e un po di gente tra cui io li aspetta qui e adesso aspettiamo il gruppone da positano e si riparte verso cetara la cosa più bella è che facciamo il raduno due giorni dopo due giorni dopo il friday climatic sei fani ottani quanti ottani sono? Greta le doveva venire però all'ultima tutta no 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 Siamo a Cetara Siamo al Distinguishing Gentleman's Ride Ma partiamo dall'inizio di questa storia Ma senza mano, porca puttana La mano è quando finisce il video Scusami Sono questi dettini Praticamente sono andato in moto Me ne sto tornando a monopattino Fortunatamente è leggermente in discesa Tutta la strada Mamma mia Tutta la strada Tutta la strada